Gli studenti del Mamiani da settembre avranno di nuovo la loro scuola. L'Istituto Morselli, dopo otto anni di chiusura per lavori di ristrutturazione, tornerà ad essere agibile dal primo giorno di scuola dell'anno scolastico 2022-2023. Quella che troveranno gli studenti sarà una sede rivoluzionata in tutto e per tutto. Saranno 23 le aule, 3 i laboratori e un'aula magna. E poi la facciata che sarà vivacizzata da diversi murales di 10 metri per 8, su uno sfondo color rosso pompeiano, direttamente selezionato dagli alunni della quarta E del Mengaroni. Il Morselli sarà così il primo edificio Nzeb tra quelli gestiti dalla provincia, ovvero una struttura con il massimo grado di efficientamento energetico, con un consumo quasi pari a zero. Un'operazione complessiva da circa 3 milioni e 800 mila euro per l'immobile di proprietà del comune, ma sotto la gestione della provincia, che ha intercettato i fondi necessari per l'ammodernamento. Nello specifico, 732 mila euro sono arrivati dalla regione, 1 milione e 300 mila dal ministero e quasi un milione di euro dal GSE per gli incentivi energetici. Otto anni di attesa per rivedere la struttura di via 11 febbraio agibile frequentata dagli studenti a causa dei rallentamenti sia sui finanziamenti che sui lavori. Un progetto di intervento che è stato cambiato in corso d'opera a causa di un rilevamento fatto dai tecnici sull'insicurezza delle fondamenta dell'edificio. La prima apparizione al pubblico del rinnovato edificio avverrà domenica 3 luglio alle ore 9.30 dove verranno presentati i murales e le decorazioni sul lato dell'ingresso principale.